. Motog Silverstone 2017, orari, gara, dichiarazioni, prove libere e le qualifiche del GP di Silverstone. Motog Silverstone 2017, orari, gara e ultime news. Torna il grande sport nel fine settimana con la nuova gara della Motog P. Stavolta protagonista sarà il circuito di Silverstone. . Mark Marquez, leader della classifica della Motog P con 16 punti di vantaggio su Dovizioso, punta alla vittoria anche a questo giro, abbiamo trovato una buona base per la moto nei test, questo è molto positivo. . Silverstone mi piace, l'anno scorso abbiamo interpretato un buon gran premio e solo in gara forse ci è mancato qualche cosa. Quest'anno faremo di tutto per raggiungere il podio. Motog Silverstone 2017, le dichiarazioni di Valentino Rossi. . Arriva carico Rossi, è una pista ottimale per me e per il mio stile di guida. Non vedo l'ora di scoprire se siamo riusciti a trovare soluzioni positive per migliorare la nostra Yamaha. . Valentino Rossi, in vista del gran premio di Silverstone, 12 barra o appuntamento mondiale, punta a entrare nelle prime tre posizioni, andiamo a Silverstone dopo un giorno di testa a Misano e voglio tornare in pista immediatamente per capire se siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni per migliorare la moto commenta il pilota della Yamaha, reduce da un poco brillante settimo posto in Austria. . Quella di Silverstone è una pista molto bella e divertente, ma al contempo molto impegnativa e molto lunga, con tanti cambi di direzione ad alta velocità. Motog Silverstone 2017, gara, orari, prove libere e qualifiche. . 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